ciao e benvenuto su ghiarao giratore al mondo dell'orologeria sono pietro e oggi voglio far vedere una video recensione tripla tra lo yema superman tra vulcan no tick limited edition che ho realizzato insieme alla gioielleria rosa spina di bergamo 30 pezzi con quadrante limitato di quello particolare skin diver e il bracco orologi apneist tre orologi che hanno una cosa in comune una sola cosa in comune l'essere degli skin diver poi abbiamo tante differenze che è inutile andare a sottolineare però per chi volesse fare magari l'antipatico nei commenti ci tengo a ribadire parliamo di un micro brand parliamo di vulcan che è un'azienda che è nata e rinata poi negli ultimi tempi ma che ha una storicità importante l'orologio del presidente eccetera eccetera quindi ha realizzato il cricket che è sicuramente uno degli orologi di punta ma anche il nautica insomma è una maison che tutti noi conosciamo e che realizza anche parte dei propri movimenti in house e abbiamo yema che sta facendo davvero un percorso molto interessante un market tutti gli effetti che distribuisce e che sta continuamente producendo movimenti diversi quindi tre realtà molto diverse una start up una realtà storica che conosciamo e yema che comunque è una realtà anch'essa storica soprattutto in francia ma che è rinata diciamo così così come la conosciamo adesso solo negli ultimi anni tre orologi differenti che però secondo me valeva la pena mettere insieme e guardare un po in dettaglio però prima di guardare la video recensione mi raccomando fate un bel like e iscrivetevi a questo canale è un modo gratuito per sostenere questo contenuto e quelli che pubblico abitualmente qui su youtube non hanno un costo non pubblico video pagamento insomma è tutto gratis se vi fa piacere fate un bel like iscrivetevi mi raccomando per ora guardiamo la video recensione vi aspetto per le conclusioni qui sempre perché non me ne vado partiamo come sempre dal packaging dalle scatole questa è quella del vulcan autique bracca orologi con l'apnest e lo yema superman allora la scatola del vulcan secondo me è la più carina tra le tre con forma allungata ed in legno con una chiavetta usb per documenti e tutto ciò che necessita l'orologio quindi manutenzione quant'altro tra yema e bracca diciamo che siamo lì parliamo di due scatole simili forse più bella quella del bracca e adesso vi faccio vedere anche perché quello dello yema è come vedete è simpatica perché diventa oltre che la scatola un porto orologi con insimilpelle quindi necopelle o pelle vegetale a seconda di come preferite considerare mentre invece l'apnest di bracca orologi si presenta con questa scatola che ricorda tutti gli effetti le scatole dei rolex vintage non credo che sia assolutamente un mistero da parte di mac o di questa di questa cosa con questo simpatico pannetto dove poi viene adagiato l'orologio viene data questa medaglietta con la scritta upnest ed eccoci finalmente di fronte ai tre orologi la similitudine maggiore la possiamo vedere tra l'apnest e il nautique lo yema diciamo che è un po un bonus track facendo parte comunque gli orologi che appartengono a un certo elitage come vulcan che sono di chiara ispirazione skin diver e che quindi mi faceva piacere portare sul canale sicuramente se qua invece del bracciale avessi messo un tropic le somiglianze tra i tre orologi sarebbero state maggiori e già che ci siamo partiamo dal primo aspetto secondo me importante da sottolineare qua vediamo un tropic vintage qui un tropic moderno e qui invece un bracciale ad oggi l'unico tra i tre che può essere venduto con un bracciale a maglie piene con un finale con finali pieni con scatoletta comunque generica però sicuramente tra i tre ovviamente pulsanti di micro regolazione però tra i tre è quello che ad oggi presenta un bracciale gli altri due hanno bracciali se vogliamo il nautique non ha ancora un bracciale 2024 febbraio momento in cui sto registrando questo video vedremo se arriverà più avanti mentre l'apneist ha un bracciale però che non ha i finali pieni ed ecco il bracciale bracca orologi diamo la scritta incisa sulla clasp dopo il pulsante per l'apertura ovviamente questo è ancora pellicolato in quanto mi è stato dato proprio per fare la prova abbiamo dei pin che sono a vite e per la rimozione delle maglie viene fornito anche questo cacciavite molto carino secondo me una chicca che viene viene data nel momento in cui una persona acquista anche il bracciale abbiamo quattro fori per la micro regolazione un design molto semplice vintage come dicevo già finali dritti che sono l'unico elemento che non mi ha fatto impazzire avrei preferito ovviamente dei finali che andassero accompagnare le ansie della cassa esteticamente ci sono molti elementi in comune tra di loro siamo di fronte come già dicevo all'inizio del video a tre skin diver a tre declinazioni diverse e questa tipologia di orologi ma devo dirvi la verità tra i tre esteticamente quello che a me personalmente piace di più fatto salvo tutte le cose che dirò in questo video è l'apneist di Marco Bracca in questa configurazione quindi quadrante nero con lunetta in zaffero retroilluminato blu la limited edition che vediamo alla sinistra realizzata in collaborazione con la gioielleria rosa spina di bergamo in 30 pezzi mondo ha un quadrante secondo me particolarissimo che io adoro così come adoro il verde ovviamente è un orologio che tende a essere meno utilizzato anche in una collezione più ampia mentre invece lo IEMA avendo in questa colorazione entrambi il quadrante che è l'inserto ghiera di colore nero risulta essere quello se vogliamo un po' più piatto tra i tre sentiamo l'inserto ghiera di ciascun orologio per vedere come è il feedback secondo me è molto bello e preciso quello del Vulcan Nautique così come quello dell'apneist che è decisamente più rumoroso ma comunque morbido nell'utilizzo anche un bel grip se vediamo poi lo vedremo poi quando guardiamo vicino la cassa sono sono molto simili lo IEMA come sapete va per prima cosa svitata la corona qui abbiamo un inserto più classico in alluminio e tra i tre probabilmente quello un po' più semplice diciamo così rispetto agli altri due ricordo che abbiamo un inserto in ceramica in questo caso vetro in zaffero retroilluminato in questo qui non abbiamo la retroilluminazione della ceramica mentre qui classico alluminio con un dot luminoso a ore 12 cosa da notare molto piacevole secondo me il profilo della cassa la cassa soprattutto dell'apneist è stata realizzata in italia e da un'azienda italiana la finitura possiamo definirla davvero molto molto curata ma devo altresì dire che è altrettanto curata anche quella del Vulcan Nautique e a colpo d'occhio e anche con la macro devo dirvi la verità non vedo differenze particolari tra le due mentre invece quella dello IEMA Superman è lucida e ha tra l'altro l'unica tra le due i fori sulle sulle anse che in teoria dovrebbero essere invece un elemento caratteristico proprio degli skin diver quindi se vogliamo nei primi due sono quasi una mancanza però ha una fattura secondo me inferiore rispetto ai primi due citati se non ultimo anche perché in questo caso non abbiamo particolari biselli mentre osservando invece le casse del Nautique e dell'apneist vediamo come ci sia anche un bel bisello lucido e la forma delle due casse è davvero molto molto simile doveva cambiare è un po' il grip della lunetta dell'inserto ghiera e ovviamente anche le misure perché anche le misure come sapete sono diverse 39 mm di diametro una distanza da ansa di 47.7 spessore di 13.32 mm tra i tre orologi di questa comparazione è sicuramente quello col maggior spessore e abbiamo un passo del cinturino da 18 che possiamo riammirare anche in questa versione con il suo bracciale l'apneist è sicuramente il più sottile tra i tre abbiamo uno spessore quasi record a 11 mm per un diver passo del cinturino da 18 46.81 la distanza da ansa e ansa e 38.1 invece in millimetri il diametro veste davvero molto bene e come potete vedere può sparire sotto una camicia senza nessun problema è davvero un orologio che ha fatto nella sottigliezza motivo per cui è stato scelto il calibro che poi vedremo il proprio diciamo così fattore di forza se l'apneist al primato per essere l'orologio più sottile tra i tre il vulcan nautica al primato di essere quello con la distanza da ansa ansa più ridotto sotto i 45 mm 44.2 12.01 invece di spessore 18 il passo del cinturino e diametro da 38 mm questo ci fa già capire un altro elemento che va a differenziare i due orologi ovvero guardando in particolare questi che sono quelli un po più oggetto di questa comparazione come potete vedere l'apneist ha delle ansie decisamente più allungate rispetto invece al nautique dove le ansie sono più più ridotte e di conseguenza l'ingombro poi sul polso risulta essere molto equilibrato sul nautique e quello dell'apneist risulta quando si parla di orologi sotto i 50 49 mm difficilmente stanno male sul polso però alcuni l'hanno giudicato nel tempo un po troppo ingombrante sul polso ma secondo me è dovuto solo a questa distanza da ansa molto più affusolata questo dovuto anche a questa scelta di andare proprio a rendere ultra piatto l'orologio ora guardiamoli da vicino devo dire la verità da vicino la tridimensionalità della pasta luminescente che diventa indice su tutto l'orologio è davvero interessante perché da davvero un bel gioco su tutto l'orologio e di conseguenza non solo poi come vedremo la prova al buio è davvero wow ma in generale offre secondo me quella chiave vincente che all'intero orologio questo perché lo dico perché per il resto l'orologio a pochi elementi troviamo ore 12 la scritta baracca orologi troviamo poi poco sotto la scritta appneist 200 metri sub di conseguenza gli elementi presenti sono davvero pochi così come sotto all'indice ore 6 troviamo la scritta italia che è stata inserita grazie al fatto come già citato in precedenza che gran parte della lavorazione è stata fatta proprio in italia in particolare la cassa e l'assemblaggio per quanto riguarda altri elementi presenti sull'orologio possiamo già vedere che le sfere sono davvero di ottima fattura quella delle ore brodaro classica molto bella e in generale l'orologio ha quindi una leggibilità davvero eccezionale una nota che si potrebbe fare e che alcuni hanno fatto in passato riguardo il nome devo dirvi la verità io la sento un po' come una critica se vogliamo inutile parliamo di una persona che ha un proprio nome ha deciso di dare il proprio nome all'azienda che sostanzialmente ha fondato vulcan nautic ha come già visto per quanto riguarda l'orologio marco bracca una soluzione per quanto riguarda gli indici similare però con meno tridimensionalità rispetto a quello che abbiamo visto cambiano anche ovviamente molti dettagli ma non è non è un caso sono due orologi diversi che ricordo l'orologio apnis è stato presentato nei propri render prima quindi non c'è un omaggio dell'uno all'altro indubbiamente anche perché non era un orologio o una referenza molto famosa e quindi non credo proprio che marco la conoscesse prima che vulcan la ritirasse fuori sono sincero guardando il quadrante troviamo il logo vulcan sotto la scritta nautic del modello poco sotto troviamo invece la dicitura inca block inca block 25 jewels quindi 25 rubini del calibro l swiss model l in questo caso abbiamo dei richiami vintage all'orologio in quanto la dicitura inca block era usata in particolar modo quando la link block è stato utilizzato nei primi movimenti perché rappresentava un valore aggiunto quindi anche a livello di marketing si sceglieva di inserirlo sul quadrante perché rappresentava ovviamente la novità del momento ed eccoci di fronte allo iema abbiamo una struttura diversa rispetto a quelli visti in precedenza qui la tridimensionalità degli indici è ancora diminuita rispetto a quelli che abbiamo visto dell'apnist e del nautic ma abbiamo un quadrante più ricco abbiamo la scritta yema superman poco sotto e poi troviamo la scritta automatic e 990 piedi che è l'impermeabilità di questo orologio sotto l'indice ore 6 invece troviamo la scritta france un richiamo simile a quello che abbiamo visto sull'orologio apnist dove la scritta italia è posizionata proprio esattamente sotto l'indice a ore 6 abbiamo la data contornata di bianco sottolineata in questo modo io non sono un grande amante della data in particolar modo sui diver in questo caso bisogna sottolineare come rispetto agli altri due orologi che stiamo vedendo c'è anche la corona che va a bloccare ulteriormente l'inserto ghiera che quindi non può girare se non viene svitata la corona questo era un elemento di sicurezza che veniva utilizzato da yema prima quando non era diventato uno standard avere delle inserti ghiera a scatti la qualità di stampe ed elementi così come sfere data e così via devo dire la verità è ottima su tutti e tre i modelli così come stiamo ammirando sul superman lo vedremo poi anche sugli altri orologi che stiamo osservando quindi devo dire che tutti e tre sono promosse se devo dire una cosa io in questa conformazione di sfere la sfera a pala dei secondi trovo sempre che sia splendida così come l'amo sui orologi nipponici di casa secco mi piace tantissimo anche sullo yema anche sull'appness devo dire non trovo sbavature o di imperfezioni gli indici che troviamo fatti di pasta luminescente sono ben posizionati non ci sono distorsioni di sorta le stampe sono molto chiare nitide così come le sfere che non hanno nessuna tipologia di sbavatura ed eccoci di fronte nel vulcan nautique dove così come per gli amici oserei chiamarli tali orologi non troviamo particolari perfezioni da sottolineare le sfere forse sono le uniche che risultano essere un po più piatte rispetto agli al superman e all'appness quindi un po più normali se così possiamo dire ma per il resto l'orologi davvero ben realizzato con tutti gli elementi necessari osserviamo le corone ecco quella dello yema si svita molto bene la carica viene data dolcemente impreziosita dal logo della y di yema come già detto va a fermare ulteriormente anche l'inserto altrimenti non può essere ruotato per quanto riguarda il nautique non abbiamo anche qui nessun problema anche qui è lucida con la v di vulcain andiamo a svitarla come possiamo vedere tubo corona non generoso ma sufficiente per quello che è il compito a cui l'orologio deve sottostare ed infine il l'appness e devo dire la verità è quello con la corona più abbondante il tubo corona anche più abbondante guardatelo da voi come abbondante sembra davvero un orologio con una grado di impermeabilità maggiore rispetto ai 200 metri che sono garantiti vediamo la di apness in questo caso su sfondo micropallinato però devo dirvi la verità feedback anche qui ottimo impressionante in questo caso nell'appness il tubo corona yema col suo fondello a vite lucido ci offre però uno sfondo cognato lucido su sfondo micropallinato molto bello devo dirvi la verità tra i tre è il fondello che preferisco per quanto riguarda il nautique e l'appness l'appness in questa conformazione che è la nuova non è più presente la firma di di marco al centro troviamo pochi elementi devo dire la verità la ritengo un po più piatta avrei preferito qualcosa di diverso magari la di apness qua al centro un elemento un po più articolato rispetto a questa soluzione che comunque è lavorata perché vedete che c'è una satinatura circolare sulla sul fondello ma avrei preferito qualcosa di più nautique abbiamo un fondello invece cognato un'apertura non semplice qua abbiamo un'apertura classica così come sullo yema qui non è semplice serve un dado e ovviamente essendo una limited edition rosa spina ghiera che è il canale sul quale state vedendo l'orologio se non l'avete ancora fatto mi raccomando un bel like e iscrivetevi 30 pezzi mondo questo è il numero uno di 30 che è il mio questo invece non è più in serie limitata troviamo i riferimenti al calibro 90 39 qui eta 28 24 qui ma adesso parliamo dei movimenti sul vulcan eutic troviamo l'eta 28 24 che come molti di voi ricorderanno entrato commercio nel 1971 e deriva dal progetto eterna 14 29 ricordiamo le caratteristiche 25 rubini abbiamo 28 mila 800 alternanza ora uno spessore di 4,6 mm regolazione etacron con vite micrometrica e una riserva di carica tra le 38 e le 40 ore l'antiurto come indicato già sul quadrante è inca bloc andiamo poi ad osservare invece l'apneist di brach orologi al suo interno troviamo il calibro 90 39 che fa parte della linea premium di casa miota ovvero 90 la serie la serie 9 pensate una delle caratteristiche principali di questo movimento è la sottigliezza che è di 3,9 mm l'eta 28 24 invece è di 4,6 mm diamo un'accuratezza di meno 10 più 30 secondi al giorno fermo macchina e una 28 mila 800 alternanza ora 24 rubini e 42 ore di riserva di carica è considerato da tutti un progetto estremamente interessante e viene sempre più utilizzato dalle mesoni di tutto il mondo per quanto riguarda yema troviamo lo yema 2000 in questo caso parliamo delle primissime esperienze di yema in casa in fatto di movimenti dove venivano presi in questo caso e dichiarati sul sito parti di componenti cinesi che venivano poi invece assemblate all'interno della maison in francia che quindi è a tutti gli effetti un orologio che ha una sua dinamica ed una sua peculiarità intrinseca cioè non è un clone di altri orologi è stato introdotto alla prima versione nel 2011 le alternanze sempre 28 mila 800 abbiamo 29 rubini fermo macchina stop dei secondi ovviamente rimessa rapida della data che in questo caso è presente ed una accuratezza di meno più 25 secondi al giorno riserva di carica di 42 ore tra i tre calibri sicuramente c'è chi preferisce lo svizzero di casa bulken chi preferisce il miota di dell'apneist o addirittura chi vuole qualcosa di più particolare come lo yema 2000 sicuramente siamo di fronte a tre calibri diversi ma che tutto sommato sono assimilabili nel senso che nessuno di questi è un calibro primo e allo stesso tempo nessuno inteso come un calibro di manifattura o di alta fattura sono tre calibri comunque standard che troviamo su molti orologi con pregi e difetti laddove qualcuno magari ha una maggiore durata qualcun altro più preciso eccetera eccetera parlando dei due cinturini protagonisti ovviamente questa recensione del bracciale ne ho già parlato preferisco quella del vulca e mi piace molto di più la fibbia ad ardiglione personalizzata mentre invece qui è stato scelto di lasciare una fibbia a ardiglione generica che va a ricordare il marchio che ovviamente li ha prodotti per poi essere acquistati da dall'azienda devo dire la verità avrei preferito anche qui una fibbia personalizzata magari con la stessa di apneist che abbiamo ammirato sulla corona lo avevo anticipato ed eccoci finalmente la prova al buio ovviamente accelerata i tre orologi si difendono molto bene è indubbio però l'effetto wow che fa l'apneist è superiore agli altri questo è dovuto soprattutto all'inserto ghiera in vetro zaffero bombato retroilluminato che è davvero una qualcosa in più una chicca in più apprezzabile sull'orologio e di conseguenza questo elemento è da sottolineare per tutti e tre gli orologi abbiamo un vetro zaffero bombato ovviamente con trattamento antiriflesso questo nel no tick si difende molto molto bene per quanto riguarda anche secondo me la scelta di questo contrasto tra il verde e il bianco sta davvero molto bene addirittura qui abbiamo una doppia bombatura vedete come è importante sullo yema superman qui diciamo che c'è qualche difficoltà in più ma comunque sia non parliamo di chissà quali problema nella nella gestione del dei riflessi questo dovuto proprio la bombatura del vetro mentre per quanto riguarda l'orologio apneist di bracco orologi anche qui si difende molto bene e da sottolineare come questa bombatura va a creare questo effetto via lattea sul sul quadrante alcuni lo trovano molto bello altri non l'apprezzano anche qui dipende nel vostro gusto per quanto riguarda i prezzi siamo più o meno lì il vulcan no tick in questa particolare conformazione era stato venduto a 1200 euro però in generale prendendo il prezzo di listino è di 1500 euro per tutte le caratteristiche che abbiamo visto fatto salvo scontistiche che possono essere sempre effettuate su le varianti blu e nero che sono tipiche e ricorrenti per quanto riguarda lo yema questo yema non è più presente in collezione in questa conformazione però era un orologio che circa costava attorno ai 990 euro 1000 euro anche qui fatto salvo scontistiche quant'altro per quanto riguarda invece l'apneist di bracco orologi parliamo di 1200 euro praticamente siamo tutti sono tutti orologi che variano attorno alla fascia del 1200 eccetera questo da considerare è un elemento importante in molti si sono lamentati sul prezzo dell'apneist momento in cui è stato realizzato è stato realizzato in piccoli pezzi in piccoli lotti questo che cosa comporta comporta che l'azienda che produce piccoli lotti comunque ne produrrà di più di di casse di quadranti e il costo maggiore che poi ci sarà perché comunque vengono prodotte 300 casse anche se vengono acquistate solo 150 va ad impattare sul costo di produzione quindi minore è il numero di orologi e maggiore è il rincaro che viene fatto oltre al fatto che come già detto molte dei processi sono stati fatti in Italia con un costo maggiore per quanto riguarda IEMA già nel movimento ma anche in altri dettagli viene assemblato poi in Francia però diciamo che c'è gran parte di lavorazione cinese nella realizzazione dell'orologio per quanto riguarda Vulcan abbiamo una base in Svizzera quindi da questo punto di vista c'è sicuramente un lavorazione che ha un costo maggiore abbiamo un calibro Svizzero che ormai è introvabile se non per gli orologi di casa suo c'è anche questo è un elemento da considerare quindi mettendo insieme tutto questo potete anche fare le vostre considerazioni i vostri apprezzamenti sul prezzo. In conclusione beh adesso ve lo dico eccoci spero che il video vi sia piaciuto sono stato molto molto obiettivo e così come è giusto esserlo sempre e comunque ho messo da parte quello che è il mio rapporto con Marco che è inutile nascondere lo conosco ci siamo visti diverse volte non lo definisco sicuramente il mio miglior amico sento con più frequenza tante altre persone però una persona che conosco molto bene e di conseguenza questa cosa poteva influenzarmi nella recensione ho proprio messo da parte tutto però devo dirvi una cosa e lo dico in estrema sincerità considerando quello che è il l'innamoramento che gli orologi danno nel momento in cui ho visto per la prima volta l'upnest e Marco lo sa io ho detto caspita dal vivo mi ha proprio stregato e così come ho detto ad altra qui l'ho visto al polso nel tempo e in questa prova che ho potuto fare grazie a Marco che me l'ha prestato proprio così senza davvero nulla pretendere mi ha detto te lo mando faccio quello che vuoi e io ho fatto un gioco su easter dove se non mi seguite trovate ovviamente il mio profilo dove ho detto se raggiungo 500 like faccio un video e l'orologio anzi scusate il post è andato benissimo grazie ovviamente anche a Marco che spingeva per che facessi questo questo video però devo dire la verità è proprio bello è proprio bello poi c'è chi non è una conclusione netta io non do i voti quello che io ho messo è messo a confronto tutto cercato di essere più oggettivo possibile ho tirato fuori alcuni elementi c'è chi ad esempio può apprezzare di più la bellezza di un quadrante c'è chi può apprezzare di più la peculiarità dell'inserto che era in vetro zaffero bombato c'è chi apprezza di più e dà più peso ai fondelli c'è chi dà più peso a un bracciale ci sono tanti aspetti non c'è un vincitore non c'è un vincitore in tutto questo sarete voi a seconda di quello che preferite a seconda di quelle che sono le vostre le cose a cui tenete di più in un allogio a scegliere il vostro preferito ovviamente più o meno la cifra è quella a livello economico non la volete spendere in un micro brand spendete su un altro marchio volete invece dar fiducia a un micro brand spendete insomma fate un po' quello che più vi pare e piace io in conclusione avendo già vulcano tic che non posso assolutamente rende la prima limited edition che ho fatto un pezzo di 30 al mondo di vulca quello sta lì dove sta però devo dirvi la verità essendo anche molto simile col con l'app nest non mi viene quella cosa di acquistarlo se non avessi già se non avessi già no tic probabilmente invece avrei acquistato grazie per aver visto questo video vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me facebook instagram telegram gruppo facebook dedicata all'offerta per gli orologi tic toc e il sito che era punto it vi trovate tutti in descrizione mi raccomando non lasciatevelo scappare